Sei qui, come un miracolo, sei qui. In qualità di responsabile di questo centro che raggruppa un ente di formazione accreditato con la Regione Calabria e poi due associazioni, una Orlus e una No Profit, ho proprio il piacere di rappresentare l'idea, l'intenzione, la voglia dei genitori di costituire una nuova Orlus con il nome del loro bambino Giancarlo Esposito a cui hanno voluto affiancare anche Neverland, quindi un nuovo albero più che un nuovo ramo dello stesso albero che si occupi di dare una mano concreta di aiuto ai bambini che sono rimasti soli e ai genitori che hanno perso i propri figli in circostanze diciamo non naturali. Sicuramente una grande mano d'aiuto, ognuno di noi che lavora per Neverland è stato lieto di aderire alla richiesta perché come dicono gli esperti di mare ci sono due modi di affrontare l'onda. La prima è lasciarsi travolgere, la seconda è provare a passare sotto e ad emergere dall'altra parte per avere poi l'oceano a disposizione. Questi due signori con la S maiuscola hanno suggerito la seconda ipotesi e noi l'abbiamo sposata in pieno confidando di essere all'altezza. Siamo con l'avvocato Ugo Ledonne che ci illustra la vicenda giudiziari. Sì, io penso che ormai è una vicenda notoria in tutta la provincia di Cosenza quello che è accaduto al piccolo Giancarlo. E più che una tragedia personale penso che sia una tragedia comunque almeno provinciale se non nazionale. Il 2 luglio del 2014, come saprete, si è spento Giancarlo all'interno della piscina comunale di Cosenza. Le cause del decesso sono state, per quanto finora appunto indagato dal Pubblico Ministero, sono state addebitabili ad un annegamento del piccolo Giancarlo. È stato richiesto il rinvio a giudizio per i responsabili della piscina nonché per i dipendenti che avevano in cura e in gestione il piccolo Giancarlo. È una vicenda ovviamente che ha del paradossale perché nonostante tutti gli strumenti che potevano esserci in quell'occasione in realtà nulla è stato fatto e l'indagine ha messo in evidenza carenze strutturali nonché gestionali di quella che è la piscina comunale di Cosenza. Quindi il nostro intento è semplicemente quello di fare chiarezza in relazione a questa tragica vicenda e ci auguriamo appunto che il processo possa fare luce su questo tragico evento. Sei qui, come un miracolo, sei qui.